Ogni censimento si è basato sulla strutturazione di una fitta rete istituzionale di rapporti. La novità introdotta dal censimento permanente è che rende questa rete permanente nel tempo e le relazioni tra Istat, Ministero dell'Interno, Regioni, Comuni diventano permanenti nel tempo alla luce della innovazione metodologica che prevede la relazione tra il censimento e tutte le indagini sociali dell'Istat. Questo consente anche di investire molto sulla qualità della rete di intervistatori, sulla qualità degli uffici dei comuni e di rendere permanente questo investimento in formazione perenne dei rilevatori che vanno sul territorio. Tutto l'investimento tecnologico dell'Istat a supporto del censimento coadiuva questo investimento istituzionale e tutto quanto messo insieme rappresenta un grandissimo investimento per la funzione statistica sul territorio.